Siamo dimosti in tre, tre sommari e tre biricari, tre briganti sulla strada di Girgente a Morreale. Uno piomba sugli alfieri e gli rompe le bandiere, uno va dal capodale e un ci dice che va a fare. Salve e venite trovate ancora una volta insieme. Prima di cominciare devo mandare un saluto e approfitto di questa canzone alla signora Beninati, che è la sorella di Franco Franco. Ciao, ti mando un grosso bacio, perché lo volevo fare un'altra volta, ma l'ho menticata sempre. Oggi ho cantato questa canzona e sono un poco triste, un poco allegro. E chi ti ha autorizzato a cantare, Gigi? Ti sembra il momento di cantare? Ma sei qua! Ma con quale spirito ti metti a cantare? Ma con quale spirito viene che la scuola è quasi finita! Allora, Gigi, riflettiamo con attenzione, perché ormai questo è il momento clou. Ora ci vuole il momento topico della scuola, Gigi. Ah, peatto! Cosa fai? Gli chiedi un passano. È ormai da molto tempo, Gigi. Guarda che anche se siamo agli sgoccioli, io ti sequestro tutto. Ti sequestro, ti sequestro tutto, Gigi. È il nostro periodo. Eh già, eh già, dammi, Gigi, consegna. Consegna alla maestra ufficialmente le carte. Non ti chiedi un passano, ma se te li posso pure regalarti. Te li riconsegnerò la prossima puntata, quando verrai accompagnato da uno dei tuoi genitori. Eh già, mio padre non può venire. Perché non può venire? Per motivi personali, non ce lo posso spiegare. In che senso? Gigi, ma lo sai che alla tua maestra puoi dire tutto? Io sono come un padre confessore, puoi dirmi tutto. Sorella. Ma tu l'hai detto, hai confessato o hai confessato? Ma è una metafora, nel senso che è un esempio. Ma è già, mi ha fatto il ciccidico, io ero per il malato. In italiano, in italiano. In italiano, Gigi. Il mio padre ci ha scivolato il piede e ha avuto una caduta nella caviglia. Ed è ricoverato all'ospedale? Sì, c'è l'occhiero scalone, ha messo il piede in fallo e ci hanno dato quattro mesi. Di prognosi? No, no, per me dici tu, intanto la prima la devono vedere come va. Ma gli hanno messo l'ingessatura allora. Hanno messo l'ingessatura e dice che ci hanno trovato il liquido. Ah, ho capito. Nella caviglia che faceva la corsetà, a Chiara Vesce, un pochino di liquido ci volessi, ma invece manco, ne manco liquido. Ma essa, sono felice e contento. Oh, e perché sei felice e contento? Raccontaci. Perché dobbiamo, diciamo, come dire, ringraziare una nuente, un nostro caro amico, che a me lo mangiamo. Tane, che può fare? Un caro amico. Ma essa non la sa che sei buona? Gì, Gì, ma come ti permetti? Oh, ma lasciami finire di parlare, non puoi parlare. Sei buona, Gelle. Ah, buona, Gelle. Super miccato, signora. No, non è supermercato, ma essa, ma è super miccato. Cioè, significa che si possono trovare tantissimi prodotti di qualità a prezzi convenienti. Come dire, ma essa, ti faccio un esempio, a prezzi, facciamo un esempio. Facciamo una lista della spesa. Euro 50. Sì. Lo faccio vedere nella televisione, vedi? Per esempio, Euro 50, qui ci sono a prezzi come? Stracciate. Stracciate, proprio la prezza, lo vedi. Ogni tanto qualche battuta la capisci. Ma come, Gigi, la capisco la battuta? Ma il mio compito non è capire le battute. Il mio compito è portarti alla promozione, portarti in prima media. Ti trovo a Villa Bata, metti in via l'Europa, vicino a quella dove c'è il fruttimento da Noima, un poco più avanti. E allora può darsi che gustando dei prodotti di grande qualità e spendendo poco può darsi che gli ultimi giorni di scuola... Un fosforo, un milano! Quindi mi raccomando, compro un po' di prodotti. Ah, ma oggi dovevo portare il volantino, l'ho dimenticato, Danilo, la prossima volta. La prossima volta lo porto. Perché ci sono... Ah, ma perché hanno fatto il volantino? Perché ci sono delle offerte uniche, irripetibili da... No. No. Perché hanno fatto il volantino alla Bonagel? Perché, Gigi, se lo dici tu? Perché? Perché? Perché ci sono le promozioni! Ah, sì? Che ci ha detto? E io ci ho scritto, fai una quantità e nel prossimo volantino ci metti Gigi a Euro03, promozione. A meno, signor, promozione a volantino, giusto, signora? Gigi, comunque ancora ti puoi giocare l'ultima cartuccia, perché tra po' siamo nella fase del prescrutinio. Che vuol dire, Gigi? Spiega ai nostri amici, tu che sei un alunno con la testa sulle spalle. A meno, però, anche un salopato. Spiega cosa significa che stiamo affrontando, stiamo vivendo la fase del prescrutinio. Che vuol dire? Il prescrutinio. Allora, il prescrutinio invece quando uno fa l'incutino e il maesterno, fa la vita e la morte, fa il prugatorio e l'inferno. E l'inferno. E mi fanno, vabbè, dici che ancora l'hanno deciso, che ce l'hanno fatto di discutire. Sì, Gigi, però c'è stata una fuga di notizie, praticamente. Ma che è un periodo? Ma sì, perché c'è tutta la scuola in subbuio, non solo la nostra, ma tutte le scuole limitrofe hanno fatto una specie di, che ti posso dire, un pronostico, no? Hanno fatto il... Il tutto nero! Anche le scommesse clandestine su di te! Eh, ma questo è famoso, sogno, maestro! E vuoi sapere a quanto è data la tua promozione? A quanto è data la promozione, maestro? A 800. Oh, ragazzi, meglio di Liverpool, sogno! Hai capito! Le mie amiche... Vuoi sapere la tua bocciatura? 500 le danno, da nero! Quelli del Liverpool! No, stavo dicendo, maestro, all'800! A 800, che vuol dire? Vuol dire che se tu, per esempio, giochi su di me, e giochi un euro su Gigi, promosso, loro ti danno 800, e quindi invece se io sono bocciato, a un euro! Pidocchiose! Gigi! Questi che scommettitori sono pidocchiose, maestro! No, nel senso che loro analizzano, no? Stanno analizzando il tuo percorso scolastico, ha capito! Osservano il fenomeno! Bello fenomeno scaruto! Va bene, maestro, te lo stai portando bene di prima di prima di prima di prima di prima di tutta! E certo, perché la vincita è inversamente proporzionale a quella che è la realtà Certo, che ce l'hanno tutti con me Assolutamente non è così Gigi, perché puoi dirlo qua davanti a tutti Io sono sempre stata la prima a guidarti, a sostenerti A incoraggiarti Mi hai avuto un coraggio su di me, perché io mi sono messo la testa a partito Gigi, tutti questi anni, chi ti ha consolato? Ho consolato meca No, ti ho consolato io, quando prendevi un brutto voto Chi ti ha consolato? Sì, è vero, ma è vero Chi ti ha incoraggiato a fare sempre meca? È vero, è vero E allora? E allora? Mi vuoi dare quest'ulteriore dolore quest'anno? Chi è che ha sopportato il fatto che voi mi avete detto che mi ha bocciato per tutti i 10 anni? Ma Gigi, ti ho detto, gli esperti hanno osservato il fenomeno, no? E quindi quest'anno diciamoci per essere la devoluzione Gigi, io conto su di te, perché adesso nella fase del prescrutino Cioè significa che i professori ti ascolteranno Ah, hanno fatto la griglia maestra Non ti venga in mente di ritirarti? Perché io sento dire da molti alunni, mi ritiro, no, no, no Ma quando ritiro maestra, io ho fatto la griglia Hai fatto la griglia? C'è il professore che ha detto, ho sentito dire maestra, ci ha detto un'altra professoressa E Giaccio, ti dispiace se mi frevi la griglia? Praticamente che cos'è la griglia? Lo sai che cos'è la griglia, no? Io sì, sentiamo tu Aspetta, facciamo un esempio per le persone a casa Questa è la griglia, vedete? Ci manca un manico, vabbè, ma si capisce La griglia e loro ci mettono gli studenti sopra la griglia Arruccino, papapapa, papapapa, capito? Il professore ci ha detto, dammi i modi di Gigi Poi loro fanno il conteggio finale, c'è il registro elettronico E ti stabiliscono se mi ammettono, se mi abbbocciano, se mi fanno il rimandamento Oppure mi fanno con debito Ma ha detto Gigi, forse sei promosso, ma roco, con debito E che ne pensi? Gigi, se ci mancava l'oltre, siccome ne ho picca, ci mettiamo 5-6 debiti Ma almeno, ma almeno Meglio bocciato, un euro niente non pago niente Ma no, Gigi Ma non vi posso dire che ho la promozione e mi ci metto i debiti Che significa, ma è Ma Gigi, tu cogli l'attimo, carpe diem cosa vuol dire Non stare lì ad aspettare la promozione in toto O meglio la promozione parziale con debito Vabbè, me ne dici una riciclatura che faccia lo spettacolo O le 21, vi aspetto che almeno faccia i compiti con voi Mi porto la lavagna e ripassiamo, maestro, ripassate A proposito Tanino, poi mi mandi la pubblicità che devo dire una cosa Quindi vi ricordo sempre Dall'Europa, a Villa Botta Buona Gelle, super miccato Miccato l'ha capito perché? Economico Economico Cioè Prezzi stracciati Prezzi Stacciati Ti basta stacciatello Vabbè Tanino Mandi più uno stacchetto o mecciale E ne parliamo dopo Due gamberi si incontrano in riva al mare Al che uno, preoccupato, dice all'altro Sai, sono un poco in tensione Ma perché? Niente Mia moglie è uscita perché è andata in un cocktail E ancora non si è decampato E siamo andati con la diretta A proposito, siamo in perfettissima diretta Allora, è arrivata l'estate E quando arriva l'estate, maestro, che si chiede? E succede che in molte città, in molti quartieri, in molte cittadine La sera è festa, no? Quindi ci sono le feste di piazza Ci sono delle serate Gli eventi importanti Eventi importanti E allora, qua l'evento più importante di uno spettacolo di cabaret Finalmente con la promozione in tasca di Gigi Esatto Allora, tutti voi Se volete aiutarmi Chiamateci in tutte le piazze dello Sicile Vedremo io E la maestra Vabbè, la maestra E la maestra Vabbè, ti ci porto perché Grazie Perché ti ci voglio portare Ma tu mi devi fare la promozione Gigi Ah, ci sono gli ultimi giorni Ultimi giorni Lo stabiliremo la prossima settimana Quindi, tutti quelli che volete Avete un numero nella sott'impressione Vedete quel numero? Ci potete contattare per lo spettacolo di cabaret Con Gigi e la maestra E lo spettacolo quello da solo Contato a Borgese Quindi, in questo momento Questo messaggio a chi lo rivolgiamo? Lo rivolgiamo a tutti gli organizzatori A tutte le proloca A tutti i comitati A tutti i comuni A tutti coloro i quali Giorno organizzano delle feste Sia pubbliche che private Chiamateci E fateci le vostre richieste Ma timore, frimenti E la statina Chiamateci In un elemento importante Noi vi faremo sorridere A tutti Sorridere Ovviamente ci vieni a dire Sorridere si dice Ma no, Gigi Lo vedi che c'è l'accento? Lo stai vedendo? Lo vedi? Lo vedi? Io non vedo l'accento Tu lo vedi l'accento Sorridere Si dice sorridere Si dice sorridere, Gigi Ma Gigi ascolta Quindi dopo che ci sarà Questa tua promozione Ah ma scusa Non dimenticavo Nella festa di piazza Cosa ci sono? Le botte I giochi d'artificio Pirolandia Andate sul sito Sul sito Digitate Pirolandia Bagheria E ti spunta Giuseppe La Rosa E contattate Che ci sono I giochi A passare una volta Danilo Maestro Non me lo fai dimenticare Manderemo Otto minuti Di giochi d'artificio Che sono Veramente Qualche cosa di importante A proposito Quindi qual è il sito Gigi? Qual è il sito? Pirolandia www.pirolandia.itcom Tu ce l'hai un sito Gigi? Un sito Ma non il mio è www.tipoocchitamonita.com Ma che sito è? Un sitone E io ogni tanto Un buco Sovrano Sovrano Avanti Computers Quindi Danilo Mi raccomando Se voi vedete Una bella festa di piazza Venimi a trovare Va bene? Quindi ci saranno A proposito Domani Si può dire domani? Eh sì Diciamo che è sabato Ci sarà la inaugurazione Di una bellissima struttura Sportiva Carini E cosa succederà? E c'è una festa Di solidarietà Contro la violenza Indette dal ministero Quindi Io faccio l'allenatore Se mi volete Venire a trovare Tutti gli amici di Carini Che ci stanno seguendo In questo momento Oh puntalissima Alle ore 15 Vi aspetto 15-16 Che c'era Poi che ci sono io Mallo Davide E tanti altri attori Che siamo famosi E che io faccio l'allenatore E Mario Fa il secondo Che prepara la festa A Cain Ma che dici Dai In modo di gioco Vi anticipo Io farò l'899 Che fai? A me con casa mia piccola 899 Ma che dici? Quindi vi aspetto A Carini Nella nuova struttura Ci sarà tutta Poi andiamo appena finisce C'era andiamo tutti Al castello C'è serata di gara A buffare Mi chiede A buffare Tutti Perché fa che E' una partita Taneo Te lo raccomando Mi hai mangiato Puri chiamare Nel senso che Per stare in forma Per stare in forma Però poi mi raccomando Recupera nel weekend Per studiare E un saluto particolare Per tutti gli amici Di Reggio Calabria Dovete sapere Che io dicevo Tanti messaggi Della provincia di Messina Reggio Calabria La punta La punta del Unicello suo Ecco la presente L'umito Dello stivale L'umito Dello stivale Quindi gli amici Di Reggio Calabria Un saluto A Castrovilla Tutta la zona Le dà Un bacio Da parte di Gigi E grazie Per avermi fatto sapere Che anche Reggio Calabria Vede questa Dammissione Ma che 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 c'erano Dove E meno male Che parla In palermitano Ma Gigi Però adesso Che ormai Siamo quasi alla fine Io Ma Gigi Ma no Perché ti volevo Dare un suggerimento In questi ultimi giorni Approfitta Anche con un tema Libero Perché so per esempio Che verrà inserito Anche l'argomento Delle favole E quindi qualora tu Magari Non puoi Posso presentare La favola Sì Ci sono queste favolette Che piacciono tanto Per esempio No Per esempio Quale favola Io ho sentito Però E' una notizia Mi chiamate Ma no Nel senso che comunque C'è l'equipe Psicopedagogica Che non ne vuole più Sapere di te Non ce la sai Capolo tu Ho sentita C'è giù Sperissa L'occhiellino No Gigi Lo faccio per te Perché io faccio da tramite Con l'equipe Psicopedagogica Sei tramatologica Perché mi traumatizzi Perché fai da trauma Perché appunto Ti andrai ad esaminare E ho sentito dire Che puoi anche raccontare Una favola Anche quella Anche quella Quale sai Tu ne conosci una Quella di Pinocchio Quella di Cappuccetto Rosso I tre porcellini I tre porcellini Quali sono? I tre porcellini La storia dei tre fatrelli No? Ma che dici I porcellini O le carocce Quelle delle case Che si devono costruire le case Che se ne vanno ad abitare Non la sai Proprio maestra Forse perché in casa Non ne abbiamo In famiglia da me E un mansegnato Ce la favo Io invece volevo fare La poesia No la favola La favola Eh Quella di Come si chiama maestra Maestra che a certo punto Che pende la scarpetta Ah cenerentola 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 Ma posso fare? E facciamo questa allora Me la appunto maestra Perché Ma c'è pizzare io Cenerentola Cenerentola No con la S di sole Con la C di cane Ceno cane No quale cane Gigi Tu hai detto Ceneri cane Cenerentola Tipo cenere Tipo cenere Cenerentola 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 Va bene maestra Gigi ho sentito dire che Oltre a questo Non mi farei più parlare Perché non ti posso dire nient'altro No che cenere Mi deve aiutare maestra Ma ti deve aiutare Gigi Anzi scherzo il titolo Ed è quanto dire E allora Cenerentola Cenerentola Una bottiglia 0,60 Passato di promotora 0,20 Ma che c'è? Amiche stava pensando a buona Cenerentola Ma chi si chiama Tu ce ne vedete? Perché là ci sono le promozioni E quindi E per questo io pensi Le promozioni di Gigi E Ora speriamo che nel prossimo Valentino Ci scrivi Promozione di Gigi Oh Ho visto Io ho un'altra idea Spera perché lui mi sta seguendo Non mi ha fatto avere Valentino Pilla Gigi Ma non ci possono dire queste cose intellenze Perché la sera mi aveva detto Vieni mi a trovare Lo sai io sono venuto Ma il Valentino non c'era Eh Che ci posso fare? Nel prossimo Valentino Ci scriviamo Gigi in promozione Tu immagini E dopo tutta l'applauso E dopo tutto il super micato E c'è scritto Super micato Assolutamente Che ci rende l'idea Giù Ciotalino Micato significa che Come dire? Che si spende poco Economico E con prezzi bassi Prezzi stracciati Ma questa cenerentola Chi era? Cenerentola Era una dolce fanciulla Eh no Una gentile fanciulla Ma buona Buona Minchia sta parola Buona Già E loro mettersi in chiudere Buona Buona Già Era una bella donna Era una giovane donna No? Che era la figlia di chi? Di un Meschino No Era di un Di un signorotto Buono invece Anzi Era Stava buona Stava Viveva Esatto Esatto Ho pochi piccoli cieli Non c'era dentro C'era un certo benessere Aveva un uomo Che c'era dentro Oh ma cenerentola Proprio la cera Sì E cosa è successo? Cenerentola purtroppo Purtroppo Perse la mamma E se fa così Se io non c'erano i piccoli Ma questo dico Che la salute è importante Che c'è solo Che tu c'erano i piccoli E poi vedi la mamma E quindi Cos'è successo? Suo padre Ci vedi un funerale Sì Dopo il funerale Suo padre Pensò bene di C'è stato preoccupato Figlia mia Come si dice Ti chiudono una porta Eh E benato E si apre un portone E cosa fece suo padre? Sopra se fece Che ci ha detto Che è morta la mamma E non ti può occupare Eh E si è risposato Ah sì? Suo padre E se lo vuoi dire Perché dopo c'era la pela Si è risposato Con chi? Ovvero E non è che va a stare Dicendo qualcosa Ma si è sposato Con una donna Che diciamo Sì Diciamo che era Un'arrampicatrice sociale Questa donna Mia Arrampicatrice sociale Ma chi c'è me la scrive Arrampicatrice sociale Ma non mi va a pigliare In tutto il gabinetto Arrampicatrice Ma che c'entra Nel senso che Voleva fare il salto Di qualità No? Voleva fare Diciamo Voleva scoprire Diciamo Però che non aveva la tosse Eh sì E aveva due figlie Questa signora Questa signora Ma l'aveva dal primo Del matrimonio precedente Sì Era una vedova Anche lei Mi chiamava la famiglia Sportunata fuori E a chi le c'è mi chiamata Io le c'è mamma Che era vedova Perché lei era vedova Lui era vedova Quindi c'era un vedova Quindi all'inizio Lei voleva accalappiare Il marito Voleva fare Arrampicatrice Arrampicatrice E cosa fece Secondo te? Caccia di Se viene Ma tua padre Sì ma l'obiettivo qual era? Andare al castello Con le sue figliastre Perché lui aveva il castello? Eh sì Perché era benestante Ma lì Ma pagavo Caccia Non lo so Sì perché aveva da sistemare Le due sue figlie Le due figlie Che mi schienano Un po' lì Sì Sì Economica Sì Scusa Perché l'impolletta Vuoi dire Che c'erano A pari e petito Ma capito? In italiano Gigi Vame E mo' lì Che Nel senso che Vivevano Distenti Sì vivevano distenti Anche perché La matrigna Poi praticamente Questa signora è diventata la matrigna Matrigna Qual era il suo obiettivo? Infilarsi al castello E per le sue figlie Quello era il patrigno Il patrigno sì Però mentre lui ha continuato a essere un uomo per bene Un signore Un signore dentro e fuori La vedova Appena invece è arrivata Saccava più Poi Perché l'obiettivo qual era? Far entrare anche in società Le figlie dentro Sì Mentre Cenerentola era una dolce ragazza Mestia Certe volte le spazzioni non vengono per caso Avevano lineamenti molto fini Era una ragazza molto raffinata Molto bella Le tue figlie invece come erano? Poi parlare come un petito Signora Si taleava Cero piccerite Ma non perché Perché i bambini sono tutti belli Perché Ma poi ma chi c'erano l'are? Brutti E quindi che successe? Cominciò proprio Ci fu una specie di contropigliarsi Di conflitto Un conflitto All'ultimo sangue All'ultimo sangue Il padre organizzò una bella festa Il padre poi intanto era partito Cos'è successo? Ci fu una grande festa Ci fu una grande festa Ma appena il padre partì Il piccolo padre Certo Appena il padre partì La vedova che fece secondo te? Da subito Appena ho partito La fanacchia Che c'erano la cucina Che c'erano la cucina Che questa signora Per farci così mangiare Paga mio marito Esatto E a Cenerentola che ha fatto L'ha mandata A pulire casa A pulire La cucina L'ha declassata C'erano la cucina Cenerentola Va a pulire la casa Che posso avere qualche scopatura E trovo tutto in disordine Sì perché era una matrigna Proprio cattiva Papias Cattiva Cattivissima Cattiva matrigna Che sei stata molto cattiva Con Cenerentola Che era una ragazza dolce Dolce Mentre le tue figlie Erano brutte come ho detto Ma tu hai approfittato Della Arrampicatrice Arrampicatrice sociale E dell'accappale Accalappiamento La preda La preda del marito La preda del marito Vedo Va bene Poi ci fu il ballo E al momento del ballo Che successe Gigi Preparava la pubblicità E ci ha mandato la pubblicità Ci vediamo dopo Prima che cominciai il ballo Va bene Un signore Entra dal dottore Gli si avvicina E gli dice Dottore Ormai sono convinto Che sono impazzito Sogno di essere E penso di essere E sono sicuro Che sono Un biscotto Sono salato Sottile Ha capito dottore Il dottore Si tranquillizza Lei non è un biscotto È un crack Eccellemente sfortunato sei Perché prima ti muovi la madre Poi tuo padre Che giustamente Ancora ci paghava la rubrica Da fresca Si è messa con un signore Che aveva due figlie Che anche lei era vedova Giusto? Se sbaglio mi scasseggi Allora Aspetta Allora Mi pideva la spiata C'era una volta C'era una volta C'era una volta C'era dentro Che era sfortunata Perché la mamma Gli era morta Da giovanissima Il padre che ancora Era bello Catello Catello No basta No Non lo posso sentire più Catello Catello Nel senso che aveva Viva Saida Dice ma io non posso Rimanere vedolo Ad oltranza Allora si è messa Con una signora Che anche lei era Bello Catello Catello Ma capisce Che aveva tutta L'apparecchiatura scientifica E poi aveva due figli Malari signora Ma brutti Proprio ci volevano Che c'era impiegata Che c'è l'altro Che c'è l'altro Che hanno I carconzati Dice ma lo sa Che c'è l'altro Tutto il giorno H24 H24 Dice pure che te fanno Attacchi Se l'aria Occi E questi due figli Che accetta Punto E poi C'è una bella cena Sì però Prima l'ho mandato Cenerente La puri le tue Prima l'ho mandato Cenerente Ho tasolato Se la vedeva Veramente Ed è riconoscibile A proposito di cena Ma l'altra sera Sono andato a mangiare A rustico 2 Questa è la verità Santa Giuralo 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 Oh Poi vi mandiamo Lo spot La prossima settimana 20 euro Si pagano Lo dico Per le famiglie a casa Anziché andare a spendere Soldi in mente Allora Con 20 euro Io ho mangiato Io non pagavo Perché è giusto Che c'è la pubblicità È giusto dirlo No Però dico C'erano altre persone Che accanto a me Che stavano mangiando 20 euro Danilo Quando mi viene a trovare Tu fai Non ti preoccupare Ti fai Sogno con la madre Ma ti chiedi Come si chiama Si chiede la ventola Signore ventilo Un antipasto Grosso Un piatto tanto così C'era la focaccina Poi c'era la Come si chiama Quella con le melinciane Ma che si fa La caponata La caponata Un beleniant Danilo Poi c'era Prosciutto ammogliato Con i mozzardini Con pomodorino Un beleniant Poi c'era Danilo Una fetta di forma Un beleniant Assolutamente Olive Un beleniant Queste sono antipasto Signora Per mangiarlo Ci fanno Cette fegate Dopodiché Ci ha portato Il primo Io mi sono preso Chi di pennette Una francescana E c'era pure Un altro tipo di pasta Poi ci sono solo pennette Perché Non ce la faceva più Poi mi ha portato Cosciutto di Di maiale Con salsa Maestra Ma quanto mangia? Il secondo Non ce lo siamo potuti mangiare Il secondo piatto Non ce lo siamo potuti mangiare Perché abbiamo io 20 euro 20 è tutto a base di pesce 25 Poi vi faccio vedere Le pietanze Quindi le cose che dico Ve le faccio vedere Prenotate Quando passo la pubblicità Scrivete il numero Se venite a trovarmi Questa sera Io faccio lo spettacolo Che è gratuito Gratiss Gratiss Bravo Gigi E avendo gustato Delle pietanze così buone Giustamente La mamma dice Organizziamo la cena Certo Perché c'era un ballo In cui avrebbe presenziato Il principe Che c'era pure il principe Che cercava moglie Vedi Vedi ma tu E questa famiglia Hanno tutti C'è montato Perché io ho sentito dire Che cercava moglie Ma tu proprio E ha cucchiato Tutti i pignati Che questo principe Si voleva sposare E quindi è arrivato Lusciere praticamente Che consegnava l'invito A tutti A tutte le persone Lusciere ci ha detto La partecipazione La partecipazione Quindi hanno suonato E ci ha detto Scusi Lei Sono le figlie Della signora Si E abitate vicino A un castello Si Si è sposata Sua madre Con un principe Si Allora è lei C'è posta Che posta per lei La manda a camera E spinchi Certo Anzi Cenerentola Già Era molto preoccupata Perché aveva pensato Sicuramente non mi porteranno La matrigna Malvaggia Si Che so Malvagia E invece cosa fece La incoraggiò La illuse Dicendo Ma io ho tre figlie Quindi mi deve consegnare Tre inviti E ciotte Vedete A chiedi in famiglia Nascono Tanino Ma secondo te Invece alla fine Se la portarono Ma che fa scherzo Ma se che tutto l'avessi portato E sono figli no No Lei si volle portare Solo le figlie Ah Si volle portare Solo le figlie Si Perché riempirono Cenerentola di lavoro Pulire Lavare Stirare Pulire tutto Ma scherzo E dice Non le vai Accelerare Non le chiudiamo Ma va a colpo Bravo E stella Dicendo Vedi che la conosce Questa favola Bravo Bravo Gigi Perché lei pensava Di che A questo punto L'incertezza La pazia Che ti è successo Un'altra Ma che deve Intrombare Un po' Gigi Ma non si fa Ma un po' Di buone maniere Almeno Scusami Se mi ha scioccato Il gaccarotto Che devo fare In italiano Ho la gola secca Si dice Ho la bocca asciutta Ho la bocca asciutta La gola secca Sentoci così mangiare E l'ho lasciato Glorito Come il sacchianato Tutta nero Come era fatto Il cosciotto Il cosciotto Il cosciotto di maiale Come era fatto Era bello Ma era buono E c'era pure La salsetta Ma era scura La salsetta Come era Una salsetta agrodolce Come era Si ci impaghiamo Altro che scarpetta La scarpetta Allora Mi ci fichi Tutto se vuole Ma la scarpetta Il pane Era pure buono Perché lo fanno l'olio Il pane di paese Il pane casereccio No lo fai In pizzaiolo Ah Il pane Quando mi tenti Di fare fa un pane Ah ecco Travaglia Oh dovremmo arrivare Alla festa del principe Alla festa del principe A proposito Ricordatevi che potete festeggiare La festa di fine anno Con Gigi Chiamate sempre E vi informate Abbiamo fatto Un qualcosa speciale Un antipasto caldo Una pizza Una cosa davvero Dici Ero lo spettacolo Con me Mi porto i compiti Che dobbiamo fare Mi abbocciano Come me lo devo dire Vedemi a trovare Ma non ti preoccupare Gigi Perché tu se racconterai In sede di esami La famoletta così Per come La stai raccontando Vedrai che Andrà bene Tranquillo Quindi la prossima puntata Io faccio il tiro E ti porto questa Favola Sì Scritto Quindi Allora che è successo A un certo punto A un certo punto Cenerentola si arrende Dice basta sono stanca Sono stremata Basta non vado al ballo Ed è quello che volevano Le sorellastre Quindi ci ha riuscito Le sorellastre Era questo l'obiettivo Sorellastre Sorellastre E brutte come il pitito Ma erano brutte per davvero E allora E allora però Siccome Cenerentola Era diventata amica Di tutti gli uccellini Di tutti i topolini Cos'è successo? L'hanno convinta Vabbè Guarda quando era amica Degli uccellini Lo posso capire Ma i topolini Cenerentola Pure tutti i baciccani E così malentate Giusto E però All'improvviso Sbucò chi Una bella fa Una fattina Una fattina Che lei disse Cenerentola Che fai a casa? Che ci dici Ma se proprio Papia C'è gente che si diventa E tu brutta Perché erano le sorellastre Sì Quindi gli uccellini Cominciarono a prendere Tutte le stoffe Le più belle A cucire questo vestito Cinguettando Cinguettando Che ci succede io? Bella magia Ma mi è venuto Così spontaneamente E i topolini Invece Che fecero? I topolini Stavano ciscano Che fa? Così vanno No no I topolini Vennero trasformati In due splendidi Cavalli Ammazzano i suci La sera ce n'era uno Davanti alla pettine Che era 600 grammi E però Ci mancava la carrozza Bravo Allora la fatina che fece Si guardò intorno Si guardò intorno Ma Cosa ci potrebbe essere Che si può trasformare? Mi chiamano telefonino E te la fanno anche Una carrozza Giusto? Che c'entra? Vide una Zucca Una zanzara No una zanzara Una zucca Una zucca E con la sua bacchetta magica Che fece? Ci ha fatto così Binza la bimbe Ed è diventata Zucchina No zucchina È diventata una carrozza È diventata una carrozza Nel frattempo Gli uccellini Cinguettando Cinguettando Le Hanno finito E quindi dicevano Dai a questa scruscia Le persone Sentivano cinguettare Ed erano i cinguettini Degli uccelli Che finalmente avevano finito Di cucire il vestito Avevano messo tutti gli accessori Ma mancavano che cosa? Sotto un bel vestito Che ci va? Le mutanze No! Sotto sotto in basso Che c'hai tu sotto i vestiti? Ah! Le calze Sì? E dopo le calze? Le? Le scarpe Le scarpe Allora Pensa un po' Che scarpette hanno fatto Per Cenerentola? Io sono abitata Che c'è Ballerina Che c'è Una spaglia di cipolla Due scarpette di cri? Di cristallo Di cristallo Esatto E allora tutta scintillante Che sembrava Una vera principessa Cosa fece? Sallì sulla carrozza E c'è un qui pifluxe Ai topini E i topini E c'è Vai Al bar Accelera Accelera A topino Cenerentola Col suo fare Raffinato I due cavalli bianchi I due cavalli bianchi Che poi Nel topini Nascoste Lo dobbiamo dire Si diressero Verso La residenza Del principe Del principe Però la fatina cosa disse A Cenerentola Attenzione Si attento Ci sono i pulizioni Ma la lascia No Attenzione Perché l'incantesimo Dura fino a mezza A mezzanotte A mezzanotte Dopodiché Ci disse Attenzione A più A mezzanotte Non può fare Non può fare Perché dopo mezzanotte L'incantesimo Si sarebbe Scantato Si sarebbe interrotto Quindi tutta la magia Sarebbe svanita Quindi I te diventavano succe A che te diventava zucchina Bravo Gigi Ma so i ticose Oh E allora che successe? Che a c'è Punti Scenaventola Si mise sopra la carrozza E cominciò A ballo catello Catello Ma E tu vedeva Scenaventola La corsa E balla catello E c'eravano La bottigina E nel frattempo Era la pubblicità Un bambino Tornando da scuola Dice alla mamma Mamma Devo darti due notizie Una buona E una cattiva Allora la mamma Dice Si Cominciamo con quella buona Ma lo sai Che sono stato promosso Vero E adesso Dimmi quella cattiva Non è vero Ma questa favoletta E' proprio Che mi fa Emozionatissimo E certo Perché Che parla di buoni sentimenti Perché racconta Di una morale Alla fine Ma poi c'è andata Alla festa Ma certo Finalmente A bordo della sua carrozza Arriva alla residenza Del principe E arriva davanti alla porta Sì E non si scantava Che ti ha fatto Mettere i cavati Ma chi Non c'è il maggior domo No assolutamente Anzi hanno detto Prego prego signorina Si accomodi Perché lei era bellissima E al centro del salone Il principe Il principe va appena Vado avanti Vado avanti Rifiuto e vado avanti Sì Rifiuto la fetta e vado avanti 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 A un certo punto Chi arriva nel salone Ma Cenerentola Cenerentola Ma e cos'era Era un bagliore Era un bijou Era un bagliore Perché comunque Cosa rifletteva Cosa rifletteva No no Era un bagliore Rifletteva Ah un bagliore Ma comunque c'era bagliore Cosa c'è inza bagliore Cosa fa la canzone Nel suo massimo splendore E come se fosse entrato nel salone Un fascio di luce Un raggio di sole Il principe E lo vedi via così L'uomo di questo sole Cosa Che si è girato Appena l'ha vista Ci è rimasto di stucco È rimasto di stucco Quindi lasciò stare La fila delle ragazze Che erano per lui Ci ha detto alle due figlie Della signora E da che camo Nei trovati Che le ha Diciamo Estraniate Perché lui fece subito La scelta Perché rimase ammaliato Sedotto Ammaliato 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 Che guardava la principessa E ci chiede la principessa Ma lei veramente Non so offesa Per queste quattro atti Che ci sono qua Lei Mi ha suscitato Un sentimento Logico Un sentimento Logico Perché io mi potrebbe sposare Con lei Esatto Quindi ballarono Ballare Ci fa La sincera Da camere Da via Fincipe E cagnolo Gigi Perché io l'ho vinto Che c'è il pincipe Che metteva la mano Diciamo Nella parte Si dice Sacro lombare La cingeva dolcemente Gigi La cingeva dolcemente La cingeva dolcemente E i cuori che facevano? Ci sbattevano Palpitavano C'era una tachicardina Si guardavano, no? Occhi negli occhi Occhi negli occhi, signora A me gli occhi, please E mentre la cingeva dolcemente Si cingeva e i pincetti ci facevano Stasera Rompevano l'antopanaro No, scusami, Gigi, questa ce la devi spiegare Cosa vuol dire? Cioè, il principe ci voleva dire Ma che siccome era stato colpito con la tachicardina Perché non aveva mai visto co tanta bellezza No, proprio gli zagli luminosi Addirittura si metteva l'occhiare scuro il principe E ci ha detto Ma io non ho visto Co tanta bellezza Non ho visto co tanta bellezza Anzi no, se parlava il principe Probabilmente avrebbe detto co tanta beltà Il principe ha detto Non ho visto co tanta beltà Che lei al primo momento che l'ha visto E io mi sono rimasto fulminato Ah, dopo no? Allora la cingeva Dice, la posso accingere? E se la cingiù da balla E dice, oh, cartello, cartello Fia, hai matato la sua donna E ci ha detto a quella della musica Mettimi un buzzericio lentissimo Lentissimo Tipo il ballo del mattone Perché mentre ballavano Lui il cuore ci palpitava E ci aveva avuto la tachicardina Gli occhi a cuoricino Gli occhi a cuoricino Fai chiamare così Insomma, già era fatto lo scorso Il respiro man mano rallentava Il respiro che rallentava Rallentava E c'era un sbendamento come anzo E allora Aspetta, e le sorellastre e la matrigna Che erano lì in un angolo Come tre salami Che facevano? Niente, aspettavo E gli cingavano E si cingavano pure lì Non si davano pace Ma come ha fatto? Ma si chiedevano Ma che se cucciava più? Non sapevano che c'era stata La fata turchina Quella è da Pinocchio La fata turchina Questa è una fatina Ma c'era fatta pure come a dire Se mi cingavano niente Quindi c'era stata questa fatina Che aveva preso la cucuzza centinaia La zucca arancione No, quello è un altro tipo di arancione Ecco qua Ha preso la zucca arancione Che l'ha trasformato in cavalli In carrozza In carrozza In carrozza Ci ha messo pure un formaggio E me l'inciano E l'ha fatto in carrozza No, la mozzarella Non la zucca in carrozza Quella è la mozzarella in carrozza Mi sta confondendo Allora, aspetta E' andata la buona gente Lo supermercato E' andata la zucchina Che dice No, la carrozza Non c'entra niente Allora Ce n'è niente Si è messo nella carrozza E' una fatina Che ha trasformato i topi In cavalli La carrozza La zucca In carrozza E ci disse A fatina Voi Voi L'ho caduto L'ho caduto E' una camera L'ho caduto E' un punto Arriva la pubblicità Un signore disperato Va dal dottore Entra Dottore la prego Mi usi questa cortesia Mi aiuti Non mi ascolta più nessuno Il dottore Avanti il prossimo Allora Praticamente è finita la festa No, non è finita la festa Perché ancora la festa Insomma era nel pieno Era nel pieno Però arrivò il rintocco Della mezzanotte Cenerentola Si ricordò Quello che gli E cosa gli aveva detto Mezzanotte E quindi che gli aveva detto La fatina La fatina Cenerentola Guarda che appena Passa mezzanotte Tutto diciamo Si sfiata tutto L'incardesimo finisce Finisce Allora lei di corsa Stava rubando Nel scalona E perse E perse la scarpetta La scarpetta di cristallo Quindi lei arrivò subito Salì in carrozza E si diresse verso casa Ha trovato la casa Che deve diventare Sapare che Entra dentro E a un certo punto Il principe C'è stato il maggior domo Che stava facendo I polizzi Nel scale E ha trovato la scarpina E dice Ma questa scarpetta Dice Di chi è questa scarpetta Subito E il principe Chi sono amato Dice Ma è questa scarpetta E chi ti ha fatto la tutta Quasi capito Pure i piedi Mentre accingeva Catello a catello Dice Voglio vedere Di chi è questa scarpetta E quindi Chiamò il suo maggiordome Lo fece andare Lungo e largo Nella città A provare questa scarpetta Meschina Poi provò la scarpetta Alle figlie della signora A tutti A tutti Finché arrivò Nella sua casa Puoi sapere Chi ti ha fatto la signora Botta le sale Almeno se lavavano Perché c'era Chi aveva il piede troppo grande Quindi la scarpetta Non era sua Chi ce l'aveva piccolo Perché la scarpetta In fondo Era della Della Cenerentola Chi mi si dava Che c'era la città La punta lupi Era così Cicciava a misura Diciamo Ma L'esperimento fa lì Allora il maggiordomo Stava per andarsene Però disse Ma secondo me C'è un'altra ragazza Invece qua Esatto E ci provò la scarpetta A Cenerentola E ci vendeva Panna sola E ci ha detto Cale Cenerentola Ti aspetti Il pinci Pazzuzzo Nel suo palazzo Perché vuole Convolare con te A giuste notte E così si sposarono E vissero tutti Felici e contenti Grazie per averci ascoltato Vi diamo appuntamento Quando Mezza Alla prossima puntata Senti E la matrigna malvagia E le due figliastre E le due sorellastre Brutte Che fece una figura Di Bruneal Figuraccia Da pochi soldi Allora Mezza Prima di chiudere Un saluto affettuoso A Bonagel E' cominciata Una grande offerta Ragazzi Mi raccomando Questa settimana Andate da Bonagel Via l'Europa Villa Abate Il super miccato Miccato perché Si spende di meno Vi faccio vedere Poi la locandina Parleremo Della bidra Dell'acqua E di quant'altro E soprattutto Delle promozioni Delle promozioni Perché è la pietra miliare Di Bonagel La pietra miliare E' questa Infatti Facciamo Valentina C'è scritto Le promozioni La promozione di Gigi Chiederà quando Soglie promossa Forse Un saluto affettuato A tutti gli amici Di Facebook A proposito Continuate A andare su Facebook Continuate ad andare Su Gigi e la maestra Abbiamo una pagina Facebook Cliccate mi piace Siamo 6.600 Voglio arrivare a 7.000 Perché 7.000 è un numero importante Giusto ragazzi Ecco vedete Gigi e la minestra Facebook Andate e cliccate Va bene Poi durante la settimana Vi faccio alcuni videoclips E ve le mando Maessa E possono continuare sempre A mandare messaggi Per il pronostico Della promozione Si accetta Si accetta A 800 A 800 La tua promozione Ma secondo me Ce la fai Gigi Tranquillo Tranquillo Ce la fai Quest'anno Devo scrivere questa favola Ce la fai Sì Per la prossima puntata E preparati Quella dei tre porcellini Che è interessante Siamo arrivati alla fine Un affettuoso saluto Grazie Baci per tutti A tutta la Sicilia Che ci ascolta E ricordatevi Per le feste in piazza E per i momenti importanti Totò Borghese E la maescia Vai Grazie